9.2 di Trenitalia, proveniente da Reggio Calabria Centrale e diretto a 20 miglia, delle ore 17.33 è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedi. Il treno espresso 14.2.9.2 di Trenitalia, proveniente da Reggio Calabria Centrale e diretto a 20 miglia, delle ore 17.33 è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedi. inquiet коньbolet in ritardo al binario 2.3 di Trenitalia, partengeboli e diretto a 20 miglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.